Tenere alta l'attenzione e rafforzare l'impegno sul reinserimento lavorativo dei soggetti infortunati e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è tenuto presso la Camera dei Deputati martedì 10 aprile a cui ha preso parte il direttore generale dell'Eneil Giuseppe Lucibello. Il convegno organizzato dall'onorevole Renata Polverini è stato introdotto dal saluto iniziale del vicepresidente della Camera Simone Baldelli. In apertura è stato proiettato lo spot realizzato da Eneil per la promozione delle proprie attività di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Eneil prevede interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, in particolare l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento delle postazioni lavorative e la formazione. Per far questo l'istituto ha messo in campo percorsi personalizzati e realizzati in azienda progettati da equip multidisciplinari di esperti e finanziati fino a un massimo di 150 mila euro. Non ci accontentiamo di una norma, non ci accontentiamo di un regolamento già fatto, non ci accontentiamo di una circolare. Stiamo operando nel territorio nazionale un'attività di diffusione di questa iniziativa. Infatti tantissima gente che probabilmente ancora legata alla concezione assicurativa dell'Inail. L'Inail in effetti oggi più che un'assicurazione è diventato il polo della salute e sicurezza. Inizia dalla ricerca per poi arrivare alla prevenzione, cura, indennizzo, riabilitazione, reinserimento sociale, reinserimento sociolavorativo. Tra i temi emersi la necessità di dare piena attuazione al percorso legislativo iniziato nel 2008 con l'approvazione del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Non solo, anche la necessità di promuovere una più attenta cultura della sicurezza con percorsi formativi ad hoc nelle scuole, lì dove crescono i lavoratori e i datori di lavoro del domani. Non soltanto addetti ai lavori, non soltanto numeri, ma persone, centralità della persona e il trattamento della persona rispetto al reinserimento lavorativo. Cioè la persona che subisce un incidente di una gravità che può variare dall'incidente lieve fino all'incidente gravemente invalidante, questa persona ha il diritto di poter aver garantito il proprio reinserimento lavorativo.